Perchè non ti arrendi? Perchè conosco il tuo segreto, so chi si nasconde dietro a quella maschera Tutti indossiamo una maschera Spider-Man, ma qual'è quella vera? Quella che nasconde il tuo volto? O quella che nasconde la tua vera faccia? So che sei Norman Osborn Ma davvero? Una tela niente male devo dire, ora prova la mia Allora che ne pensi delle mie com'ragniatine? Vediamo cosa si romperà per prima, se la mia tela è le tue ossa Non abbiamo ottenuto alcun risultato, forse ci serve un esperimento più drastico Buon aseraggio Spider-Man Spero che funzioni Ok, questo dolore è la dimostrazione che almeno sono ancora vivo A presto